Giorgia Gentili, il pezzo più pregiato del mercato. Dove vai Giorgia? A farmi un attimo studio. Sì, ma qual è la squadra che... Prima divisione. Un super minimale. Ormai ti hanno dato da tutte le parti. Devi dirci veramente con chi hai firmato. Un super minimale della Tegra. È sicuro?